Buongiorno popolo di YouTube, come andiamo oggi? Me ne approfitto per salutare diverse persone. Tanti vogliono essere salutati da me e queste sono le persone che voglio salutare. Nicola Arici, Alessandro Giuliano, Manuela Baresi, Niccolò Marius, Stefano Fabio, Cristian Marco Biro, Biro Orciale, Anna Maria Cavalli, 74, Luisa Pola, Polanco, Bea Beretta, Dice, Dice, Ciao Latro, Cecilia Richiedei, Lia Taveri e Giulia Costola. Supprime Colo Cassonetto e Francesco detto anche Zampa e in ultimo, ma non per ordine di importanza, voglio sponsorizzare un nuovo canale che si chiama MarkPro06 e ora ve lo faccio anche vedere, vi faccio vedere uno screen sotto. E infine, Ricchi Ricche e adesso via col video vero e proprio! Faccio iri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.